Grazie Presidente, anche qui farò un'unica trattazione per gli emendamenti 35, 36 e 37 che nascono dalla interlocuzione fitta che c'è stata a partire da maggio con gli uffici che hanno portato anche all'evidenziazione di alcune migliorie da portare al testo che poi non variano l'istruttoria, la presentazione delle domande, le regole però migliorano l'identificazione dei luoghi e la definizione che si circostanzia per poi fare le domande quindi grazie in questo caso alla Polizia Locale per le migliorie che ha voluto proporre che io ho accettato di inserire in questi tre emendamenti che penso che vadano a beneficio della normativa tutta Grazie